Salve a tutti e bentornati, continuiamo a parlare di Martín Lutero. Nella conversazione precedente ci siamo soffermati sulla sua biografia, che però interessa meno alla essenzialità, diciamo alla brevità necessaria di queste conversazioni. Diciamo subito le diverse posizioni di fronte a Martín Lutero. Da una parte c'è stata l'antica esagerazione di una certa apologetica cattolica tutta contraria a Lutero e per nulla disposta a vederci niente di buono, però vi corrispose, vi ha corrisposto soprattutto di recente, un film, Luter, un film tedesco ma visibile in tante lingue, prodotto e sceneggiato da alcune chiese della riforma. È un film del 2003 che, guarda caso, arrivò, e non è certo un caso, subito dopo il grande successo di The Passion, di Mel Gibson, un autore cattolico, The Passion forse l'avete visto tutti. Questo film invece Lutero è un film pieno di inesattezze, di grossolanità, di un'enormità di errori storici, è l'eterno problema che dicevamo nella conversazione iniziale del canale di storia, di usare la storia come una clava ideologica. Qual era la dottrina di Lutero? Partiamo dalle sue 95 tesi. Le sue 95 tesi si possono, come dire, inizialmente sintetizzare così, sono un'accorata e illegittima protesta sul modo di accordare le indulgenze nella Germania del tempo, di cui ho parlato nel precedente filmato. Però le 95 tesi si possono riassumere in tre casi nominativi latino. Sola fides, sola grazia, sola scrittura. Dovremmo aggiungere, il prof di latino ve lo chiederebbe, necessest ad salutem, cioè per la salvezza, sola fides, sola grazia, sola scrittura. Che cosa vuol dire tutto questo? La prima cosa è che l'uomo per salvarsi ha bisogno, secondo Lutero, della sola fede. La seconda cosa vuol dire che per avere la fede è necessario che chieda e ottenga soltanto la grazia di Dio. E la terza cosa è che per le sue scelte esistenziali si deve rifare alla sola Bibbia. E quando diciamo alla sola Bibbia, al dato letterale biblico, che almeno secondo la prima intuizione protestante era ininterpretabile e non si poteva cambiare, e che però poi nel tempo, questo va detto per onestà, ha prodotto una lettura fondamentalista della Bibbia da parte dei protestanti abbastanza simile a quella che i musulmani fanno del Corano. Sola fides, sola grazia, sola scrittura. Lutero sostiene, a suo dire, che tutto questo era stato detto già da Paolo, da San Paolo e da Sant'Agostino. La prima fonte che Lutero cita è appunto le prime due fonti, la lettera ai Romani e la lettera ai Galati dell'Epistolario di San Paolo. E poi il pensiero di Sant'Agostino, però di entrambi Lutero si accreditò come il più fedele interprete, se non addirittura l'unico, della serie Prima di me e ovviamente anche Dopo di me, non c'è stato e non ci sarà nulla. Per provare ad addentrarci un po' nella foresta, Lutero dice che se l'uomo vive di sola fede, egli è giustificato non per le opere che compie, ma per la sola fede. Lutero cita letteralmente Romani 1,17, ma Romani 1,17, cioè San Paolo, dice che il giusto viverà mediante la fede, non c'è affatto scritto mediante la sola fede, e questo ovviamente cambia completamente le cose. Inoltre, la polemica di Paolo, se lo leggiamo in tutto il suo vasto epistolario, contro le opere, che anche Lutero utilizzò tantissimo, non è, diciamo, contro le opere in genere, ma è contro le opere della legge di Mosè. Paolo ce l'aveva con il giustificazionismo ebraico, secondo cui, in genere, l'ebreo, essendo parte del popolo eletto, deve soltanto compiere le opere della legge, che al tempo di Paolo e anche al tempo di Gesù si erano dilatate fino a diventare 613 precetti aggiunti dai vari rabbini al testo della Torah e della Tanakh. Ma non è affatto di Paolo l'idea che l'uomo non sia chiamato a fare opere buone, questo principio, secondo cui non servono le opere buone, le opere di amore, le opere di solidarietà, non è affatto Paolino e non si può reggere sulla dottrina di San Paolo, il quale invece parla spesso proprio di opere che sgorgano dalla fede, e questo è un punto debolissimo della dottrina luterana. Se l'uomo poi vive di sola grazia, grazia è un termine che viene dal greco caris, che vuol dire gratuità, bontà, cioè se l'uomo vive e viene amato da Dio, al di là dei meriti e della generosità che lui ha, oltre il dovuto, cioè se Dio lo ama non a livello di scambio di cosa contro prezzo, ma lo ama prima, dopo e durante, al di là di quello che fa, questa non è certo un'idea luterana, è un'idea che c'è sempre stata nel cristianesimo prima di Lutero. Lutero invece ne ha dedotto che tutti i mezzi ordinari che danno la grazia, in primisi i sette sacramenti, non sono necessari, quindi dal sola grazia è di peso nel mondo luterano la abolizione totale di tutti i sacramenti. L'unico che si è salvato dalla epurazione sacramentale di Lutero è stato il battesimo, porta d'ingresso alla salvezza, quindi anche i luterani battezzano i loro bambini o battezzano gli adulti, e infatti un cattolico, un ortodosso e un protestante hanno, salvo qualche differenza, lo stesso battesimo. Però poi dopo il battesimo niente più si salva, compresa, e attenti perché qui c'è un errore madornale, terribile dei libri di testo di storia, compresa la sacra cena. I testi di storia vi dicono che sono due i sacramenti protestanti, il battesimo e la cena, ma non è affatto vero, solo il battesimo è un sacramento, perché la sacra cena non è affatto l'eucarestia in senso cattolico, perché manca ai luterani completamente il riconoscimento della presenza reale e sostanziale di Cristo nel pane dopo la consacrazione, infatti nessun cattolico fa la comunione dei protestanti, che spesso non ce l'hanno nemmeno nella liturgia, anche in questo sono divise e differiscono le chiese protestanti, e viceversa, nessun prete cattolico può celebrare con un pastore o con una pastora luterana, perché non è la stessa celebrazione, se qualcuno lo fa, compie un gravissimo abuso. Stessa fine dell'epurazione turana, ha fatto la cresima, l'ordine sacro, il matrimonio, la confessione, anche la confessione è stata maciullata sotto l'idea che la grazia del perdono arrivi direttamente da Dio senza confessarsi e anche l'unzione degli infermi. Va detto chiaramente che né Paolo né Agostino possono avere, come dire, ispirato a Lutero una simile cancellazione, in particolare Agostino ha una dottrina dei segni sacramentali molto chiara che non è per niente quella di Lutero. Infine, le scelte del credente, dice Lutero, sono ispirate dalla sola scrittura, cioè dai 73 libri della Bibbia, 46 dell'Antico, 27 dell'Uno Testamento, in realtà nel canone protestante dell'Antico ce ne sono 39 come per gli ebrei, 7 di meno, dunque solo 66. Da questo però ne dovrebbe convenire che ogni credente cristiano può interpretare liberamente la Bibbia e proprio questo è il motivo dell'incredibile pluralità di interpretazioni che ha portato tante divisioni nelle chiese e nelle teologie protestanti. Ne deriva che la verità della Bibbia non può avere alcuna applicazione progressiva alla vita che scorre, cioè la parola di Dio, la bellezza della parola di Dio contenuta nella Bibbia e la sua capacità di adattarsi allo scorrimento del tempo, non di cambiare, ma di adattarsi, di essere interpretata. Invece, in mano luterana c'è un'enorme staticità della Bibbia che non c'è affatto nel mondo cattolico dove la tradizione e il magistero entrambi, anche se su un piano meno importante della Sacra Scrittura, indicano i credenti, piste di discernimento, formano la coscienza, orientano a capire il bene e il male. Si è detto per inciso un'applicazione che Lutero fece di questo fondamentalismo biblico quando gli chiesero un'opinione su Copernico disse la gente presta orecchio a un astrologo improvvisato che cerca in tutti i modi di dimostrare che è la terra a girare e non il cielo. Questo Copernico è un folle. Pensate che perfino Keplero che era di matrice scientifica copernicana ma era di fede protestante dovete fuggire da Tubinga perché era perseguitato dai protestanti e rifugiarsi a Praga dove poi pensate fu chiamato a insegnare la dottrina copernicana proprio nella cattolicissima Bologna e poi non esistono secondo Lutero maestri della Bibbia ma questo non è vero perché nel mondo protestante ci sono i pastori protestanti che spiegano la Bibbia come i preti cattolici. Alla prossima! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!